buonasera a tutti sono la professoressa arnaldi di cordua responsabile studenti e docente di scienze e sono qui con la professoressa rasfanti buonasera la salve sono la docente responsabile della parte dei materiali e docente di scienze qui in cordua siamo qui apposta oggi per commentare la parte di biologia che era la parte un po più corposa di questo test è stato interessante insomma fare un'analisi da quello che è emerso da questa banca dati come tutti voi ben sapete questa banca dati ci ha dato 3500 quesiti di cui 1190 di biologia quindi un buon numero nella banca dati gli argomenti spaziavano abbastanza per cui c'erano tante domande ed è stato interessante anche vedere quali argomenti nella prova di oggi sono stati toccati e quali invece no sicuramente c'è stata una netta sproporzione per quello che è stata la parte di biologia classica perché su 23 domande 18 hanno riguardato quella che era la biologia classica e solo cinque domande hanno riguardato la parte di anatomia di queste 18 domande ben otto su macromolecole quindi c'è stato un netto interesse a tutto quello che era il mondo della chimica dei viventi di anatomia gli argomenti sono stati istologia cardio ed endocrino quindi argomenti abbastanza quotati ci sono stati dei grandi assenti quindi come la nostra professoressa raspanti ha subito notato eh sì mancavano diciamo la parte degli alberi genealogici e degli incroci di genetica che tanto piacciono ai nostri ragazzi quindi quella parte lì eh non è stata diciamo non sono trovata nella prova di oggi eh sì assolutamente mentre sicuramente eh un po' più di insomma felicità è stato non è stata da parte loro non trovare la parte su botanica quindi sulle piante insomma è quello e non era nella banca dati ma non è stato oggi eh preso nel test ecco considerazioni sicuramente la banca dati ha fatto emergere alcuni argomenti che eh sono stati peculiari di questa prova perché non erano eh stati citati negli ultimi anni quantomeno appunto tutta la parte di bioenergetica vegetale e eh tutta la parte di locomotore che i nostri ragazzi hanno imparato usando le nostre tecniche di memoria per cui nelle ultime settimane si erano eh impegnati per imparare a memorizzare tutto quello che erano le ossa e i muscoli sono mancati infatti questa prova azzarderei a dire che era una prova di un livello accessibilissimo anche senza banca dati la parte di biologia era eh fattibile erano tutti argomenti comunque molto frequenti nei test tutte domande abbastanza teoriche sono mancati tra bocchetti sono mancate le domande molto specifiche per cui adesso ci addentriamo nel commento però è una prova di biologia alla portata sicuramente dei ragazzi soprattutto agevolati appunto da questa banca dati quindi andiamo a proiettare quelle che sono le domande partiamo eh proprio dalla prima domanda che era l'unica domanda di bioenergetica perché come diceva prima la mia collega tutta la parte che più particolare sia sugli agenti esaccoppianti che sulle piante sono poi sulla via dei pentoso fosfati ad esempio non sono state citate invece è uscito un quesito sulla catena di trasporto degli elettroni che è una classica una classica parte di quel che riguarda bioenergetica chiedeva di trovare la risposta non corretta questo non è una cosa che diciamo di solito ai nostri ragazzi di fare molta molta attenzione perché viene spontaneo cercare la risposta giusta in questo caso quattro risposte erano corrette la risposta errata era la risposta d perché nel momento in cui c'è la catena di trasporto degli elettroni gli elettroni vengono appunto spostati da un citocromo all'altro tramite dei meccanismi di ossidoreduzione perché c'è un diciamo una potenziale di riduzione crescente in queste proteine per cui la d è sbagliata perché gli elettroni lungo la catena di trasporto diminuiscono ad ogni passaggio l'energia libera c'è una diminuzione graduale citocromo dopo citocromo per cui questa è la risposta sbagliata andando alla 11 la 11 era la domanda di istologia quindi incontriamo qui una delle cinque domande di anatomia chiedeva quali diciamo quali quali quale tessuto gli elementi cellulari sono chiamati condrociti cita è il suffisso legato alla cellula matura condro è il prefisso legato alla cartilagine basta pensare alla famosa condroplasia che è spesso citata sia nella parte di istologia che nella parte di genetica che è proprio la carenza di cartilagine quindi condro è il tessuto cartilagineo passo la palla per chimica dei viventi dalla mia collega la professoressa Raspanti perfetto ti ringrazio eccoci qua quindi per la prima domanda su chimica dei viventi che era proprio cos'è il colesterolo quindi una domanda abbastanza lineare da questo punto di vista allora cos'è il colesterolo sicuramente un lipide quindi è un lipide semplice quindi escluderei la parte glicolipide quindi un lipide formato da una parte zuccherina quindi escluderei la escluderei anche la b perché non è un trigliceride mentre mi concentrerei sulla c in quanto il colesterolo è proprio un lipide con una struttura tetraciclica questo tetraciclica mi ricorda che appunto è un lipide fatto da quattro anelli carboniosi quindi tetra è proprio l'indicatore del quattro anelli e quindi struttura ciclica poi ovviamente la d e la e non erano riferite risposte sbagliate non riferite quindi alla struttura del colesterolo andrei alla domanda successiva quindi andrei sulla domanda numero 13 che ci chiedeva rimaneva sempre nel tema della chimica dei viventi perché come diceva prima la mia collega effettivamente chimica dei viventi è stata proprio molto gettonata in questa prova e ci chiedeva un'affermazione corretta riferita ai carboidrati quindi voleva l'affermazione giusta diciamo sempre ai nostri ragazzi di sottolineare le parole chiave le parole che ci servono per trovare la risposta al quesito allora i carboidrati direi non la A perché effettivamente i vari bioelementi non sono quelli corretti qua ci parla di carbonio, ossigeno e idrogeno che effettivamente sono presenti nei carboidrati ma l'azoto già non è corretto quindi escluderei la A, escluderei anche la B perché nella B c'è un'altra parolina chiave su cui noi diciamo tantissimo di prestare attenzione, la parolina solo non è in questo caso corretto che solo la funzione strutturale abbiano i carboidrati ma effettivamente i carboidrati in organismi vegetali possono avere sia funzione strutturale sia funzione di riserva energetica dipende da quale carboidrato stiamo considerando gliceraldeide monosaccaride che contiene tre atomi di carbonio questa invece è effettivamente la risposta corretta al nostro quesito cioè l'agliceraldeide è un monosaccaride che ha come gruppo funzionale il gruppo aldeidico e contiene tre atomi di carbonio, quindi è una catena a tre atomi di carbonio sulla D la risposta D era falsa perché il ribosio e il diossiribosio non sono zuccheri a sei atomi di carbonio bensì a cinque e la E, il galattosio di saccaride formato dall'unione di una molecola di glucosio e una di lattosio è sbagliata perché effettivamente il nostro galattosio non è un disaccaride ma è un monosaccaride quindi direi che passo di nuovo la parola alla mia collega per il quesito successivo ci spostiamo su cellula, andiamo in ordine crescente gli argomenti praticamente per quel che riguarda la parte su cellula qua parlava proprio, la domanda 14 parlava del processo tramite cui le molecole fluiscono da un'area di maggiore concentrazione a un'area di minore concentrazione da maggiore a minore concentrazione è un processo spontaneo, è quello che succede normalmente anche semplicemente per quel che riguarda la diffusione di gas nell'atmosfera se noi avessimo una bombola di elio e la aprissimo l'elio si muoverebbe spontaneamente dalla bombola dove è tutto accumulato, tutto addensato e poi fluirebbe fino a occupare tutto lo spazio a disposizione da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno, quindi è un trasporto passivo i trasporti passivi sono la diffusione semplice, la diffusione facilitata in base al tipo di molecola in questione qua si teneva molto sul generico quindi direi che la risposta giusta era sicuramente diffusione il dubbio poteva essere sul trasporto attivo ma voleva dire muoversi da minor concentrazione a maggior concentrazione per quel che riguarda la 15 andiamo sugli enzimi che è un argomento che di solito nel nostro programma chiude la parte di macromolecole e parla degli enzimi responsabili del legame tra due molecole diciamo che il nome indica abbastanza bene la funzione per fortuna per chi studia tutto quello che è scienze i nomi degli enzimi tendono ad essere associati sempre alla loro funzione quindi i nomi degli enzimi sono nella maggior parte dei casi abbastanza semplici da collegare alla reazione qui come dice la parola la ligasi lega letteralmente due strutture quindi non c'era da andare a discussione perché le altre risposte portavano decisamente fuori strada diciamo che idrolasi, transferasi o sedoduttasi fanno esattamente le cose che suggeriscono la parola quindi idrolizzano, trasferiscono e operano delle redox l'aliasi poteva essere magari per una persona poco avvezza agli enzimi un termine un po' complicato ma è l'enzima che fa il contrario quindi che taglia, non è un enzima che lega per genetica, visto che sei intervenuta tu prima a parlare della grande assenza e ti restituisco grazie grazie mille, assolutamente eccoci qua, una domanda di genetica c'è stata però ecco, è più teorica se vogliamo rispetto a quello che erano i quesiti con gli alberi genealogici della banca data il quesito 16 infatti ci chiede che cosa vuol dire eterozigote per un determinato carattere un organismo che per un dato gene presenta alleli diversi sui cromosomi omologhi i cromosomi omologhi sono proprio due cromosomi che pur portando le stesse informazioni genetiche presentano alleli differenti effettivamente un organismo è eterozigote quando questi due alleli sono proprio diversi un allele sarà dominante, l'altro recessivo se invece passiamo alla domanda 17 ci riporta un po' chimica dei viventi appunto e passiamo dai carboidrati che avevamo visto prima dai lipidi ai carboidrati passiamo alle proteine ci chiede che cosa intende per struttura secondaria di una proteina la struttura secondaria è proprio la conformazione della proteina in regioni ad alfa elica o beta foglietto si forma proprio per la creazione di legami idrogeno mentre la sequenza di singoli amminoacidi è quindi la risposta B è quella semmai riferita alla struttura primaria di una proteina quindi direi che su questo non c'è molto altro da aggiungere ripasserei la palla alla mia collega il promotore è assolutamente un argomento che voglio commentare io perché è uno degli argomenti un po' più particolari è stato citato in più quesiti di questa banca dati sia per la parte di promotore assistante che inserita all'interno del concetto di operone e qui c'era forse l'unica domanda che ad una persona di nuovo magari poco pratica della parte di biologia molecolare poteva trarre un po' in inganno perché ovviamente c'era all'inizio un pochino il dubbio magari tra regolare la trascrizione, attivare la trascrizione o sito di inizio della trascrizione vediamo perché inequivocabilmente la risposta giusta è la C in primis il promotore si trova sul DNA quindi cominciamo escludendo tutte quelle risposte che contengono la parola RNA dopo di che capiamo cos'è il promotore noi spieghiamo sempre la trascrizione con il concetto di una macchina che sta andando lungo una strada nel momento in cui deve iniziare a trascrivere la nostra DNA polimerasi deve fermarsi e cominciare a trascrivere quindi immaginatevi come se la macchina a un certo punto avesse uno stop davanti normalmente nel momento in cui una macchina si ferma deve essere in qualche modo preallertata cioè deve sapere che deve rallentare se no rischia di inchiodare e fare un incidente e più veloce sta andando la macchina più è importante che l'avviso sia precoce quindi che scali le marce pian piano ecco la funzione del promotore il promotore serve proprio a far scalare le marce alla nostra RNA polimerasi la nostra RNA polimerasi come suggerisce il nome polimerizza RNA quindi crea degli RNA e li crea partendo da uno stampo di DNA se il primo nucleotide da copiare è qui quindi lo chiamiamo più uno è proprio il primo nucleotide che deve essere accoppiato tramite legame idrogeno al complementare per creare il nuovo mRNA dovrò cominciare ben prima a rallentare ad aprire la doppia elica nei prokaryoti e negli eukaryoti ovviamente la dimensione del promotore è diversa perché come dicevo prima l'RNA polimerasi prokaryotica è un po' più lenta dell'RNA polimerasi eukaryotica più o meno una strada secondaria in autostrada l'avviso va dato prima quindi il promotore nei prokaryoti ha una lunghezza di circa 40 basi quindi si comincia circa a meno 40 a meno 35 negli eukaryoti inizia a meno 100 quindi 100 nucleotidi prima io comincio già a rallentare a meno 80 quindi 80 nucleotidi prima di quello di mio interesse rallento ancora 25 nucleotidi prima del sito di interesse addirittura comincio ad aprire la doppia elica quindi mi porto avanti c'è quella che è la famosa Tata Box cioè per chi, per i ragazzi che hanno preparato questo test che stanno preparando sia la maturità che il test di medicina la Tata Box è un concetto noto perché serve appunto per l'apertura dell'elica ora perché questa premessa? proprio per giustificare il fatto che il promotore non è una parte che viene trascritta quindi non è il sito di inizio della trascrizione il promotore è l'ultima parte che non viene trascritta o per meglio dire il promotore ha quella parte di DNA che si assicura che la trascrizione inizia al più uno quindi subito dopo di lui lui serve per rallentare serve per aprire la doppia elica serve per fare in modo che appena lui finisce la trascrizione cominci per cui regola la trascrizione di un gene ma non fa non è il sito di inizio la risposta giusta è indubbiamente la C spero anche se ovviamente in aula su questo argomento rimaniamo un po' di più spero con questa breve descrizione di essere riuscita comunque a rendere l'idea dell'importanza del promotore nella trascrizione genica e a questo punto sempre io mi occupo di anatomia perché il quesito 19 è uno dei due quesiti sull'apparato cardiocircolatorio e parla della bradicardia l'opposto della forse più famosa tachicardia che oggi i nostri ragazzi hanno provato andando al test perché non solo con i nostri ragazzi qui allargo a tutti i ragazzi d'Italia che giustamente pur avendo le domande in anticipo un pochino di tensione il giorno della prima sessione la avevano quindi se la famosa tachicardia provata da tutti i ragazzi il giorno del test è l'accelerazione insomma della frequenza cardiaca la bradicardia è l'esatto opposto quindi la frequenza cardiaca si abbassa al distrutore della norma malattie cardiovascolari è un argomento non molto frequente al test ma qua e là sono usciti concetti come appunto la frequenza la gittata la velocità di conduzione e abbiamo avuto modo anche di parlare in aula di tutti quelli che possono essere i farmaci o le sostanze endogene che possono provocare bradicardia o tachicardia che è un argomento che interessa sempre molto ai ragazzi perché si va poi nell'ambito medico restituisco la palla alla mia collega per spostarsi di nuovo su cellula quindi facciamo da un punto di vista degli argomenti un passo indietro esatto torniamo alla parte iniziale su biologia classica con la cellula in realtà con la domanda 20 parla proprio dei virus i virus ci chiede insomma trovare l'affermazione fondamentalmente corretta riferita ai virus ed è l'unica che risulta proprio corretta che possono avere un genoma o a DNA o a RNA quindi possiamo avere virus che presentano come acido nucleico il DNA oppure i retrovirus che hanno appunto l'RNA non è corretto per esempio dire che uccidono sempre le cellule che infettano perché ci sono dei casi in cui per fortuna le cellule riescono a sopravvivere quindi a combattere e a uccidere i virus e sopravvivere altre volte in cui magari il virus non adottano un ciclo litico che porta la lisi della cellula infettata ma adottano un ciclo lisogeno che quindi permette la sopravvivenza comunque della cellula infettata magari non per sempre ma per un tot di tempo assolutamente sì quindi qui escludevamo la risposta è proprio per questo motivo le altre erano abbastanza di facile esclusione non sono i più piccoli organismi viventi non infettano le cellule vegetali non è vero che non infettano le cellule vegetali potrebbero tranquillamente infettarle e non possono replicarsi al di fuori delle cellule che vanno a infettare appunto rimanendo anche qua insomma in tema di codice genetico e quindi biologia molecolare direi che la risposta corretta a questo quesito quindi al quesito numero 22 era che il codice genetico è composto da 64 codoni cioè 64 triplette di basi quindi triplette di nucleotidi ognuno cioè la risposta quindi è 64 codoni per cui escludo la A escludo la B di questi 64 tre sono codoni di stop cioè codoni che ci permettono di interrompere la traduzione quindi interrompere la sintesi proteica i tre codoni di stop che noi diciamo ai nostri ragazzi di memorizzare perché spesso sono serviti per risolvere i quesiti e quindi è importante ricordare sono esattamente UGA quindi la tripletta fatta da la base uracile guanina e adenina l'altro l'altro codone è il codone UAG uracile adenina guanina e l'ultimo UAA uracile adenina adenina ai nostri ragazzi diciamo spesso anche di ricordare che di questi 64 codoni uno è il codone d'inizio il codone d'inizio è facile perché è AUG quindi adenina uracile guanina ed è quello che andrà a codificare per l'aminoacido mitionina ed è un aminoacido di tutte le proteine bravissima che tra l'altro è la risposta a un quesito che vedremo dopo quindi in questo modo è commentato con una frase solo due quesiti esatto uno solo due quesiti quindi direi che si escludeva da sola la risposta C scusate la risposta D no la risposta D scusate perché non tutti i codoni sono codificanti per amminoacidi questi di stop non codificano per amminoacidi ma interrompono la sintesi proteica e la C si escludeva perché noi sappiamo che il codice genetico è ridondante quindi ci sono più codoni che vanno a codificare per lo stesso amminoacido direi che per tornare nel tema di anatomia ripassiamo la palla alla mia dottoressa Arnaldi interrompiamo appunto col quesito ventuno passiamo al quesito ventidue che era un quesito sul sistema endocrino come dicevo ci sono stati in questa prova due quesiti sul sistema endocrino tutti e due collegati al pancreas endocrino peraltro quindi è raro che esca due volte anche se il pancreas è uno degli organi più quotati nei test di medicina non solo statale ma anche private in questo caso parlava della produzione di quale sostanza può essere compromessa da una patologia che interessi il pancreas endocrino allora la gastrina è una sostanza esocrina che comunque come suggerisce la parola è legata allo stomaco e non al pancreas l'istamina è una sostanza prodotta dai granulociti alcuni granulociti li citiamo nel momento in cui facciamo il sistema immunitario quindi anche qui escludiamo il sistema endocrino l'insulina è una delle due principali sostanze prodotte dal pancreas endocrino non le uniche perché ovviamente ci sono anche altre sostanze ma l'insulina e il glucagone sono proprio le due più famose l'adrenalina è una sostanza prodotta dall'amidollare del surrene l'ossitocina è una sostanza prodotta dall'ipotalamo e secreta dalla neuroipofisi quindi c'erano solo tre sostanze endocrine ma l'insulina è una sostanza abbastanza famosa prodotta dal pancreas la 23 di nuovo una domanda interessante nel senso che in questa banca dati c'erano un po' di quesiti sull'inattivazione dell'X quindi in generale parliamo del corpo di bar parecchi quesiti lo citavano senza citarlo almeno uno di questi quesiti è uscito qual è la ragione dell'inattivazione di uno dei cromosomi X nelle cellule femminili come voi ben sapete le donne sono caratterizzate dall'avere due cromosomi sessuali XX e gli uomini XY questo cosa implica che per sopravvivere serva un cromosoma X perché gli uomini riescono tranquillamente a sopravvivere con un cromosoma X l'altro cromosoma X così come il cromosoma Y serve poi per la determinazione del sesso nel momento in cui una cellula deve effettuare la meiosi quindi parliamo di spermatogoni e di ogoni utilizzerà tutti i suoi cromosomi per poter fare la suddivisione dei cromosomi omologhi quindi escludiamo da quello che sto per dire i gameti le cellule sessuali andiamo sulle cellule somatiche attenti a non cadere in un antico trabocchetto in cui i nostri ragazzi per fortuna non cadono più i cromosomi sessuali non servono soltanto le cellule sessuali anzi pensate alle più famose malattie X-linked il daltonismo l'emofilia cosa c'entrano gli occhi e il sangue con il sesso assolutamente niente il cromosoma X contiene molti geni utili a cellule di altri apparati di altri sistemi che niente hanno a che fare con il riproduttore quindi sia gli uomini sia le donne hanno bisogno di trascrivere e tradurre un cromosoma X l'altro cromosoma X presente nelle donne viene silenziato nelle cellule somatiche per non creare disparità con quella che poi è la produzione proteica degli uomini e viene usato soltanto nelle cellule sessuali quindi le cellule femminili esprimono una quantità doppia dei prodotti igienici associati all'X sarebbe quello che succederebbe se non esistesse inattivazione e ovviamente creerebbe un problema proprio a livello sistemico alle donne perché produrrebbero il doppio delle proteine necessarie per la coagulazione del sangue per la vista colori quindi sarebbe ovviamente problematico assolutamente no salto la bicchia risposta giusta quindi ci arrivo per ultimo il corpo di bar presente nei nuclei interfasici rappresenta il cromosoma X inattivo ed è presente nelle cellule somatiche sia femminili che maschili qui è un problema perché viene silenziato l'X in eccesso ma gli uomini di X ne hanno una quindi non possono silenziarla ovviamente se no non esprimerebbero più questi geni il numero dei corpi di bar presenti nelle cellule somatiche femminili è uguale al numero delle X presenti nella cellula no ogni cellula ha due X una attiva e una no quindi il numero dei corpi di bar è uno e il numero delle X è due quindi è il doppio cioè il numero dei corpi di bar è la metà rispetto ai cromosomi nelle cellule somatiche femminili è presente un solo cromosoma X per cellula dove ci siamo messi l'altro assolutamente no tutto il DNA è presente in tutte le cellule ovviamente non tutto è espresso abbiamo eucromatine abbiamo eterocromatina quindi per cui la risposta giusta è la B proprio perché l'inattivazione dell'X è casuale non definitiva perché ci sono stati casi ovviamente poi di cambio del corpo di bar ma all'inizio è casuale e quindi ogni cellula silenzierà uno dei due X quindi ovviamente a livello probabilistico c'è un mezzo di probabilità che silenzia il cromosoma X arrivato dalla madre e un mezzo di cromosoma X arrivati dal padre quindi la risposta giusta è la B e a questo punto visto che prima ha parlato di eterozigoti quindi cromosomi omologhi cromativi eccetera ripasso la palla alla mia collega perfetto allora ti ringrazio eccoci qui ecco sul quesito 24 quindi la porzione ci chiedeva la porzione del cromosoma metafasico che tiene uniti i cromatidi fratelli come si chiama allora i cromatidi fratelli non sono altro che praticamente una copia identica l'uno dell'altro e effettivamente sono uniti a livello di una porzione del cromosoma che si chiama centromero eccolo qua quindi questa struttura è proprio fatta è un cromosoma rappresentato dai due cromatidi fratelli quindi nella fase diciamo dopo la fase di sintesi e di duplicazione del DNA che avviene nell'interfase del ciclo cellulare il centromero è quindi una parte del cromosoma il punto di unione di questi due cromatidi direi che le altre alternative si escludevano abbastanza facilmente perché erano o strutture che non centravano molto tipo il sarcomero il sarcomero semmai è utile e fondamentale anzi per la contrazione muscolare quindi non c'entra assolutamente con il cromosoma i telomeri sono le parti finali e terminali del DNA eucariotico quindi non c'entra assolutamente niente e chiasma e centriolo potevano essere sì centrare col ciclo cellulare ma non con i cromatidi fratelli per quanto il centriolo è una struttura importante per la creazione del fuso mitotico quindi delle fibre del fuso che ci permetteranno poi di dividere quindi fare la divisione cellulare e il chiasma è il punto dove avviene il crossing over quindi lo scambio di materiale genetico tra cromatidi non fratelli di cromosomi omologhi che abbiamo in meiosi quindi sì ciclo cellulare ma non non è la porzione che tiene unito i cromatidi fratelli passerei a qui a quindi al quesito successivo tornando a chimica dei viventi quindi tornando al lattosio il lattosio ci chiede che cos'è qui non c'è molto in realtà da commentare nel senso che bisogna conoscere il lattosio che è un calide e sapere che la sua idrolisi quindi la sua rottura la sua scistione porta alla produzione di che cosa? di produzione di fruttosio e glucosio scusate quando fai domande tra bocchetto pensavo stessi facendo la domanda tra bocchetto infatti stavo dire no io lo so che è saccarosio e glucosio e fruttosio scusate ero convinta di aver letto la E invece ho letto la C tu sei abituata alle domande tra bocchetto in aula assolutamente sì per tenere sempre attivi e svegli quindi i ragazzi per cui direi che tornando in tema di anatomia possiamo ripassare il comando alla professoressa Arnaldi mi sono meritata questa domanda perché ho il posto giusto al tuo trabocchetto esatto esatto e riattenta quindi decisamente passiamo alla domanda sul cardio invece un po' più classica nel senso che se malattie cardiovascolari sono un argomento più raro il nome delle arterie delle vene più famose quindi non si va ovviamente nelle minori ma nelle più famose questo invece è uscito più spesso coronarie come dice diciamo come suggerisce il suffisso cor sono i vasi sanguigni che errorano il cuore perché ovviamente il cuore ha un miocardio quindi il cuore è pluristratificato abbiamo l'epicardio l'endocardio il miocardio in quest'ordine ovviamente ho chiuso volontariamente con lo strato più spesso perché il miocardio è lo strato più spesso avere una parete così spessa fa sì che non sia semplice la gestione dell'alimentazione quindi dell'apporto nutritivo e dell'apporto di ossigeno al cuore quindi il cuore non si nutre soltanto con il sangue che contiene all'interno ma ha dei vasi che portano appunto l'ossigeno e portano il nutrimento proprio al cuore passando da sopra sono le arterie che irrorano e nutrono il cuore c'è ovviamente coronaria destra e coronaria sinistra è famosa in realtà la coronaria perché molte persone hanno subito il famoso bypass delle coronarie a proposito di malattie cardiovascolari che è un argomento che tocchiamo in aula 27 quale delle seguenti molecole non è un polimero di nuovo andiamo su chimica dei viventi la risposta è diciamo abbastanza semplice più che altro perché i desossi ribosio e i ribosio sono stati anche già citati in precedenza in questo stesso test come i monomeri che costituiscono il DNA e il RNA quindi il desossi ribosio in questo caso è costituente del DNA come suggerisce proprio la D iniziale della parola ed è un monomero il DNA è un polimero costituito da nucleotidi inoltre quando il DNA viene attivato viene legato anche ad un amminoacido quindi può essere considerato un eteropolimero può essere considerato un eteropolimero a prescindere perché i nucleotidi hanno basi diverse tra loro l'insulina è una proteina quindi sicuramente un eteropolimero fatta di amminoacidi diversi l'amido è un omopolimero perché è costituito da glucosio quindi è costituito da monomeri tutti uguali per questo omopolimero nella chitina si torna al concetto di eteropolimero perché invece la composizione della chitina è decisamente più varia citiamo la chitina in aula come un eteropolimero strutturale animale all'interno del mondo dei carboidrati quindi prima parlavamo di carboidrati strutturali vegetali con Federica vediamo che ci sono anche carboidrati strutturali animali anche se meno noti come la chitina e proprio per proseguire chimica dei viventi direi che ti lascio la palla sul collagene rimaniamo nel mondo non per spoilerare la risposta esatto non spoilerarla ancora però effettivamente essendo che ci chiede che cos'è il collagene rimaniamo nel mondo delle proteine quindi è una proteina è una proteina fibrosa che ha una funzione strutturale la troviamo sicuramente nei tendini nei capelli il testo ci dice che tra l'altro è la molecola più presente nella matrice extracellulare della maggior parte delle cellule animali quindi è una proteina la nostra risposta è la risposta C passerei quindi a vedere il quesito 29 dove ci chiede siamo tornati diciamo un po' a quella che era il mondo della genetica però ripeto genetica più teorica piuttosto che alberi o incroci e che cosa ci chiede ci dice ci chiede fondamentalmente un'anomalia in cui è presente un cromosoma in più o uno in meno rispetto al normale come viene chiamata viene chiamata aneuploidia perché se analizziamo appunto questa parola la privativa eu sarebbe buono ploidia numero di cromosomi aneuploidia significa proprio non buon numero di cromosomi quindi abbiamo una neeuploidia quando c'è un'alterazione nel numero cromosomico quindi un cromosoma in più o in meno rispetto al normale monosomia trisomia sono delle aneuploidie se vogliamo quindi diciamo che quella la risposta più precisa era proprio la risposta D più precisa perché conteneva all'interno anche la C e la E cariotipo è semplicemente quella che possiamo considerare un po' una sorta di fotografia dei nostri cromosomi del nostro assetto cromosomico che viene fatta appunto in metafase proprio perché la fase del ciclo cellulare in cui vediamo bene i nostri cromosomi ben compattati quindi sono ben visibili traslocazione non non c'entrava era un altro tipo di mutazione a carico appunto del del DNA dei cromosomi però che non riguardava il numero errato degli stessi direi che possiamo passare quindi al quesito 30 per cui parliamo su chimica dei viventi dopo aver visto insomma la collagene andiamo agli amminoacidi allora per quel che riguarda questa domanda chiedeva di rintracciare l'affermazione corretta per la la mia collega professore Raspanti ha già spoilerato che l'amminoacido con cui inizia la sintesi di una proteina è la metionina quindi ovviamente non è l'arginina gli amminoacidi essenziali per l'uomo sono 20 gli amminoacidi totali utilizzati normalmente dall'uomo sono 20 gli amminoacidi essenziali sono 8 nell'età adulta 10 se allarghiamo all'età infantile gli amminoacidi cisteina e metionina contengono un atomo di zolfo questa è quella corretta la cisteina peraltro avendo l'atomo di zolfo terminale riesce a usarlo per fare i ponti di solfuro mentre la metionina in cui il zolfo è centrale rispetto al gruppo R no tutti gli amminoacidi hanno catene laterali polari no sappiamo che gli amminoacidi possono essere distinti proprio tra amminoacidi polari e amminoacidi apolari tutti gli amminoacidi possiedono un atomo di carbonio asimmetrico quasi tutti perché la glicina ci rompe le uova nel paniere essendo l'unico amminoacido achirale dal momento in cui il suo gruppo R rappresenta un idrogeno solamente 31 la seconda domanda sul sistema endocrino prima abbiamo parlato dell'insulina e ora qui parliamo del glucagone la secrezione del glucagone è regolata da ora la secrezione del glucagone è regolata dai livelli di glucosio amatico noi sappiamo che nel momento in cui noi assumiamo del cibo quindi mangiamo noi assumiamo cibo in eccesso soprattutto a Natale a Pasqua ma normalmente assumiamo comunque cibo in eccesso e tutti questi monomeri assorbiti a livello intestinale sono troppi per rimanere nel circolo sanguigno perché sennò rischierebbero di far esplodere un vaso e qui arriva il ruolo del fegato come accumulatore delle sostanze in eccesso in particolare gli zuccheri vengono accumulati sotto forma di glicogeno e l'ormone che gestisce insomma questo processo anabolico è l'insulina quindi prendo e costruisco ovviamente man mano che si procede lungo la giornata si entra poi in quella che è la fase di digiuno per cui il livello di glucosio scende e da qui interviene il glucagone il glucagone interviene proprio sulle riserve di glucosio epatico sul glucagone e scinde tramite glicogeno risi il glucosio lo riporta ad altri livelli può operare anche cioè può stimolare anche la gluconeogenesi quindi la sintesi di glucosio a partire da prodotti diversi dal glicogeno quindi pensiamo all'acido lattico pensiamo anche ad alcuni aminoacidi pensiamo ai trigliceridi hanno alcuni intermedi in comune delle varie vie per cui si riesce a fare la gluconeogenesi a questo punto per chimica dei viventi ce la dobbiamo smazzare un po' per uno perché a quanto pare domina questo test quindi ti ripasso la palla sul glicerolo perfetto eccoci allora chiudiamo in bellezza chiudiamo in bellezza con appunto l'ultima domanda la 32 su chimica dei viventi cioè in realtà sulla parte delle membrane quindi più sulla parte di cellula citando qualcosa comunque di chimica dei viventi ci chiede qual è l'affermazione non corretta quindi come diceva prima la mia collega mi raccomando al non attenzione ecco prestiamo massima attenzione a questo non tra l'altro scritto maiuscolo che ci aiuta sicuramente noi sappiamo che le membrane cellulari sono costituite non da glicolipidi ma da fosfolipidi ok quindi da lipidi speciali che sono i fosfolipidi che hanno non una parte di zucchero ma una parte di gruppo fosfato il glicerolo è un composto organico che contiene tre gruppi ossidrilice vera è corretto infatti è un alcol trivalente che quindi ha tre gruppi OH il glicogeno è un polisaccaride con struttura con funzione di riserva energetica è vero effettivamente il glicogeno ha proprio questo come funzione quella di accumulare riserva energetica la gliceraldeide torna su questa ultima domanda ed è un carboidrato tre atomi di carbonio giusto l'abbiamo visto anche in precedenza e il glicosato è una sostanza produzione di zerbante anche questa è un'affermazione corretta quindi confermiamo che la risposta errata era proprio la B e con questo direi che abbiamo terminato quelle che erano le domande della parte di biologia certo essendo noi pazienti di biologia ci siamo anche un po' dilungate però insomma ne approfittiamo già che abbiamo queste 23 domande da commentare per cominciare ad approfondire un po' qualche concetto vedendo anche in previsione di quello che potrà essere la banca dati di luglio quindi adesso ora come ora attendiamo con ansia la prossima banca dati vedremo se la ripartizione degli argomenti sarà la stessa e torniamo con un focus totale sui nostri ragazzi che lasciamo riposare un pochino ora post banca dati ma riprenderemo presto il lavoro con loro ci teniamo prima di chiudere questo intervento a farvi sapere che oltre a questi video in cui commentiamo la parte appunto di logica e di biologia di chimica di matematica e fisica ci sarà un video molto importante in cui Francesco Corgua commenterà quelli che sono i dati più succulenti in merito a questa prova quindi in livello di difficoltà globale l'analisi dei posti l'analisi di quello che può essere una previsione sui punteggi comunque in generale tutta quella che è l'osservazione macroscopica di questa prova che penso sia quello che vi interessa di più ad oggi giusto? esatto esattamente esattamente quindi direi che con questo possiamo salutarvi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti quanti buonasera grazie a tutti